E' ben ritrovati in diretta nel nostro telegiornale, occhi del mondo ovviamente puntati oggi su Washington DC, su Capitol Hill per il giuramento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Ha pronunciato la formula di rito davanti al presidente della Corte Suprema, John Roberts, e questo su una antica Bibbia di famiglia, che ha 127 anni, tenuta dalla moglie Jill. A 78 anni Biden è il presidente statunitense più anziano a entrare in carica, il primo del Delaware e il secondo cattolico dopo John Fitzgerald Kennedy. E a giurare è stata anche Kamala Harris, la prima vicepresidente donna di origini afroamericane e indiane della storia americana. Ha giurato davanti al giudice della Corte Suprema, Sonia Sotomayor, con accanto il marito, Doc Enhoff. Harris sarà dunque la prima vicepresidente donna, come detto, la prima vicepresidente di colore e la prima con origini asiatiche. Ha giurato su due Bibbie, una di Regina Shelton, ritenuta da Kamala una seconda madre, e l'altra dell'icona dei diritti civili, Turgot Marshall. Questa è la giornata dell'America, della democrazia, della storia, della speranza. La democrazia ha prevalso, ha affermato Biden nel suo discorso di insediamento, discorso al quale non hanno partecipato Donald Trump e la moglie Melania, che nella mattinata americana hanno lasciato la Casa Bianca e Washington e hanno raggiunto la residenza di Mar-a-Lago in Florida. Trump, che tra l'altro ha affermato, torneremo in qualche modo. Chiedo a tutti gli americani di aiutarmi nell'unire il paese, ha detto dal canto suo Biden, dunque nel suo primo discorso. Metterò tutta la mia anima per riunire la nazione, vinceremo sul suprematismo bianco e sui terroristi interni, ha anche detto. Sarò il presidente di tutti gli americani, mi batterò anche per coloro che non mi hanno sostenuto. Allora, riascoltiamo assieme una parte delle varie riflessioni. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew. And America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph, not of a candidate, but of a cause. The cause of democracy. The people, the will of the people, has been heard. And the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair. Much to restore. Much to heal. Much to build. And much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country has taken as many lives in one year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. E nel suo primo tweet, il presidente Joe Biden ha scritto, dunque, non c'è tempo da perdere quando si tratta di contrastare la crisi che stiamo vivendo. Biden assicura dunque che inizierà subito a lavorare per azioni forti e un soccorso immediato alle famiglie americane. Il mio presidente ha promesso di fare della lotta al Covid la priorità numero uno della sua agenda. Durante il suo discorso ha fatto osservare anche un minuto di silenzio proprio per le vittime della pandemia. E il mondo e anche tutte Europa hanno ovviamente dato il benvenuto al 46esimo presidente americano. Congratulazioni a Joe Biden e Kamala Harris sono state espresse anche dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che vi ha tweet ha commentato grazie per il discorso inaugurale stimolante e per l'offerta di collaborare. L'Europa è pronta per un nuovo inizio. Tra i primi a congratularsi con il presidente democratico e la sua squadra anche il premier Giuseppe Conte, che ovviamente a sua volta ha augurato loro buon lavoro e ha detto è un grande giorno per la democrazia la cui importanza travalica i confini americani. L'Italia è pronta ad affrontare con gli Stati Uniti le sfide della comune agenda internazionale, ha scritto dunque Conte come vediamo anche su Facebook. E a proposito del premier italiano, nella serata intorno alle 18.30 è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro secondo quanto appreso interlocutorio, durato una cinquantina di minuti, solo per riferire dunque al presidente della Repubblica gli sviluppi della crisi politica dopo il voto di fiducia di ieri. La maggioranza relativa al Senato non permette al governo di andare avanti con tranquillità. Il premier Conte ha riunito oggi le forze proprio di governo per fare il punto e alla fine del vertice è emersa la volontà di andare avanti con il percorso di rafforzamento della maggioranza e di scrittura del nuovo patto di legislatura. Vediamo il servizio. Sono ore difficili per Giuseppe Conte che incassata la maggioranza relativa al Senato continua i calcoli per capire se ci sono i numeri per portare avanti o meno l'azione di governo. L'incidente, dicono da Italia Viva, è dietro l'angolo con le prossime votazioni al Senato. La minaccia per nulla velata è quella che i sodali di Renzi potrebbero votare no mandando il governo sotto. Per questo la giornata di oggi è stata intensa sul fronte degli incontri fra i leader di partito per stabilire le mosse sullo scacchiere. La maggioranza si è incontrata in collegamento con Palazzo Chigi e ha fatto il punto su come allargarne il perimetro. Il premier, apparso stanco e provato dopo la due giorni alle camere, vorrebbe andare avanti mantenendo per ora l'interima l'agricoltura e solo successivamente, una volta puntellata la maggioranza, decidere sulla squadra di governo. Alle 18.30 è salito al colle per riferire al capo dello Stato la situazione, chiarendo che la storia d'amore con Italia Viva è arrivata al divorzio definitivo. Intanto nel centro-destra ci si appella proprio a Mattarella affinché, come si legge in una nota, il Paese non rimanga ostaggio di un governo incapace, arrogante e raccogliticcio. Una minoranza di governo, continuano Meloni, Salvini e compagnia, che continua la sfacciata e scandalosa compravendita di parlamentari e che non si fa scrupoli a imbarcare chi, eletto col centro-destra, ha tradito l'impegno preso con gli elettori. Fra questi franchi tiratori ha fatto assai scandalo il caso di Maria Rosaria Rossi, fedelissima di Berlusconi, tanto da essere chiamata labadante. Pare che lo stesso Berlusconi, in videocollegamento con gli alleati, abbia detto non so cosa possono averle promesso, è stato un fulmine a ciel sereno. Fatto sta che anche nella maggioranza e nel PD in particolare, alcune correnti chiedono una profonda revisione dei piani del governo e della squadra dei ministri, oltre che un appoggio più certo alle Camere per evitare di doversi aggrappare al carnea di di turno. Intanto oggi il Senato ha votato compatto lo scostamento di bilancio, grazie ai voti anche di centrodestra e Italia Viva, questa volta tutti d'accordo. Veniamo ora a un aggiornamento rispetto alla situazione coronavirus, perché rispetto a ieri in Italia sono stati rilevati 13.571 test tra molecolari e antigenici, positivi dunque al SARS-CoV-2, secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute, e questo a fronte di oltre 279.700 tamponi effettuati. 524 invece sono i nuovi decessi che portano il totale da inizio emergenza, a 83.681. Gli attualmente positivi al virus sono invece 523.553, di questi 2.461 sono in terapia intensiva, 22.469 ricoverati con sintomi in area medica, e oltre 498.600 sono le persone in isolamento domiciliare. Sul fronte delle vaccinazioni sono almeno 1.251.905 le somministrazioni finora effettuate, ed almeno 8.840 le persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino, e questo a livello nazionale. E prosegue dunque tra stop e rallentamenti il piano vaccino in Italia, dopo il freno di Pfizer nella distribuzione delle dosi, si è ridotto nell'ultimo lotto destinato al Paese. Il colosso statunitense avrebbe garantito, come ricorda anche l'ANSA, il recupero del gap entro il 15 febbraio, e è annunciato un graduale ritorno alla normalità già dalla prossima settimana. Il governo ha deciso di ricorrere all'Avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della Casa Farmaceutica e le azioni da intraprendere. E tra i governatori d'Italia è scattato un accordo di solidarietà per aiutare le regioni maggiormente penalizzate dal taglio di Pfizer sui vaccini. Tra queste regioni anche il Friuli Venezia Giulia, dove nel frattempo il tasso di positività al SARS-CoV-2 si rialza, così come il numero delle vittime. Sono arrivate con un giorno di ritardo le dosi del vaccino anti-Covid Pfizer previste dal Piano Nazionale per il Friuli Venezia Giulia. All'appello, infatti, mancavano 4.680 fiale che sono state affidate questa mattina ai 5 nosocomi della regione. Un problema a quello che riguarda la consegna delle dosi che ha penalizzato diverse regioni d'Italia e tra queste anche il Friuli Venezia Giulia, che aveva subito un taglio del 54% delle quantità promesse. Proprio tal proposito, tra i governatori d'Italia è scattato un accordo di solidarietà che prevede il via ad un reequilibrio tra regioni, considerando che Pfizer ha deciso unilateralmente a chi togliere di più e a chi togliere meno. Per affrontare la questione e i possibili danni correlati al comportamento della casa farmaceutica, inoltre, il Governo ha anche attivato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della Pfizer in caso di inadempienza e le possibili azioni da intraprendere. Nonostante il caos vaccini creatosi a seguito dello slittamento, in regione sono state somministrate 33.475 dosi sulle 39.655 consegnate, pari all'84.4%. Analizzando l'andamento, sono stati 23.756 gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stato inoculato il farmaco, mentre la fascia d'età che è aderito maggiormente è quella tra i 50 e i 59 anni, seguita da quella tra i 40 e i 49. Nel frattempo l'andamento della pandemia oggi in regione registra per lo più dati negativi con il tasso di positività in aumento, così come il numero di vittime. Su 7.565 tamponi molecolari sono stati rilevati 464 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,13%. Sono inoltre 3.255 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 208 casi, pari al 6,39%. I decessi registrati sono 26. Si riducono i ricoveri nelle terapie intensive, mentre aumentano quelli in altri reparti, che sono 693. I decessi complessivamente ammontano 2.157, i totalmente guariti sono 46.162. Diminuiscono infine le persone in isolamento, che oggi risultano 11.580. E continuiamo a parlare di sanità e anche di territorio regionale, perché dal primo febbraio sarà pienamente operativa la nuova risonanza magnetica all'ospedale di San Daniele. Anche questo ospedale avrà questa dotazione tecnologica evoluta, una risonanza magnetica che riuscirà a garantire migliori prestazioni, più vicini alle residenze dei cittadini, una struttura che purtroppo, al di là delle nostre previsioni, è stata colpita anche lei dalla necessità di avere posti letto in area Covid, che tutti speriamo possa essere subito, ben presto, liberata e possa continuare a proseguire nell'attività di servizio a quest'area importante del Friuli Centrale. Questa strumentazione sarà dotata anche di un software specifico per la cardiologia, che permetterà anche di analizzare meglio gli effetti del Covid sul cuore. È una particolarità di questa struttura, che tiene conto delle scelte dei professionisti, in particolare del Dottor Mosch, che ha voluto con forza questa peculiarità ed è anche frutto della generosità del signor Biasutti, che ha con la propria donazione consentito di sostenere questo tipo di attività che in questa struttura potrà garantire sicuramente una risposta migliore in termini di salute. Grazie a tutti. Nulla di definitivo è stato ancora deciso, ma è stato stabilito che la prossima maturità terrà conto dell'anno in corso, ma dovrà essere comunque un esame completo, serio e capace di offrire un quadro adeguato delle competenze degli studenti. Proseguiamo ora rivedendo i titoli del nostro telegiornale delle 19. Alla Dacia Arena è finita 1-1, subito in gol per Eira, pari di Muriel, ma poco prima ha negato un rigore ai bianconeri, grande spirito di sacrificio da parte della squadra. Udinese recrimina per il rigore negato, responsabile dell'area tecnica, incomprensibile la scelta di Giacomelli di non chiamare l'arbitro al VAR. Lo stesso Giacomelli che nella gala contro la Juve andò a verificare al monitor il mani dubbio di De Paul annullando la rete. Incassata la maggioranza relativa al Senato, Conte cerca i numeri per governare. Poco fa è salito al colle per riferire al Presidente della Repubblica, a cui si appella anche il centrodestra, affinché il Paese non rimanga ostaggio di un governo raccoglificio. L'Italia valuta azioni legali contro Pfizer per inadempienza. Le dosi non consegnate saranno recuperate a febbraio, intanto i vaccini a disposizione saranno ridistribuiti per limitare l'eccessiva penalizzazione di regioni come il Friuli, Venezia e Giulia. Oggi 672 nuovi positivi e 26 vittime. Udine-Gorizia, fiere cambia rotta, stop alle fiere tradizionali, si punta ad un nuovo sviluppo multicanale che i grandi spazi possono garantire varie attività con il distanziamento sociale, svolta inevitabile visto il periodo disastroso. Rientriamo con il caso Regeni, perché la Procura di Roma ha chiesto in rinvio a giudizio per i quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni trovato senza vita in Egitto nel febbraio del 2016. Le accuse variano dal sequestro di persona pluriaggravato al concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. Come riporta l'Ansa, in una nota all'ufficio giudiziario di Piazzale Clodio l'udienza preliminare potrebbe essere fissata entro la fine della primavera. Davanti al GUP si aprirà quindi la questione dell'assenza dell'elezione di domicilio per gli imputati. Il giudice per le udienze preliminari dovrà infatti affrontare questo nodo cruciale, già oggetto di rogatoria della Procura di Roma nell'aprile del 2019 e più volte sollecitata nel corso degli incontri con le autorità egiziane. In base al nostro sistema giudiziario proseguire il procedimento e rinviare il giudizio non è possibile se non c'è la certezza della venuta notifica E4 al Cairo al momento difesi dalle gare d'ufficio che in questi 40 giorni non hanno inviato alcun tipo di segnale IPM. Il GUP però potrebbe, scrive l'Ansa, procedere ugualmente valutando come decisiva la rilevanza mediatica avuta anche in Egitto dell'indagine e la diffusione dei nomi degli imputati. Sì, queste precisazioni sono dell'Ansa e non dell'ufficio giudiziario di Piazzale Clodio. Per la cronaca locale è stato aggredito un giovane in casa propria e questo è avvenuto in pieno centro a San Daniele del Friuli. Stanno ancora cercando di ricostruire i fatti carabinieri della compagnia di Udine intervenuti questo ieri sera in un appartamento di una palazzina Ater della cittadina in cui vive dunque il giovane. Il ragazzo in compagnia della fidanzata minorenne è stato aggredito intorno alle 21 e preso a bastonate. È finito in ospedale e si teme che questo fatto possa ricollegarsi a un regolamento di conti. Veniamo ora, come sempre, ad altri importanti fatti di cronaca riassunti nelle nostre Flash News. Un uomo di 46 anni, cittadino romeno, che deve scontare una pena di un anno e nove mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri del radiomobile di Aurisina mentre viaggiava a bordo di un autobus di linea in uscita del territorio nazionale. L'uomo faceva parte di una banda operante nel torinese che reclutava giovani studentesse, anche minorenni, con la promessa di far seguire loro corsi di formazione in Italia, salvo poi obbligarle a prostituirsi. In particolare il 46enne era l'autista dell'organizzazione che accompagnava le giovani in strada e che le sorvegliava. L'uomo è stato portato nel carcere di Trieste. Ieri mattina i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della sezione radiomobile di Udine hanno arrestato un 49enne del luogo pregiudicato. Il provvedimento restrittivo è avvenuto a causa di un cumulo di pene di un anno e 11 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio messi a segno tra la provincia di Udine e Brescia dal 2012 al 2016. L'uomo residente a Maiano è stato condotto alla casa circondariale di Udine. Incendio a Cavazzo Carnico ieri sera intorno alle 19 a bruciare una vettura probabilmente per un guasto di natura elettrica comunque per causa accidentali. Il conducente, un giovane di 20 anni residente a Verzegnis si è accorto del fumo che stava uscendo dal cruscotto e ha accostato la macchina a una opelastra. La vettura è stata avvolta completamente dalle fiamme e ingenti danni. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco e del distaccamento di Tolmezzo. Il leso il giovane. Il turno notturno dei vigili del fuoco di Pordenone si è aperto con una richiesta di soccorso a Ghirano dove nei pressi di una fabbrica si stava sviluppando un incendio. Giunto sul posto, il personale operativo ha potuto prendere atto che si trattava dell'incendio di un distillatore per il recupero delle vernici. Fiamme sono state domate dai vigili del fuoco in brevissimo tempo, circoscrivendo in tal modo i danni. Il titolare di un bar di Trieste è stato sanzionato due volte in una sera per inosservanza delle normative antipandemiche. Ieri, dopo le 18, durante un controllo della polizia al bar, al foro, sono stati multati il titolare e 5 avventori per violazioni delle misure anti-Covid. Dopo un paio d'ore, anche a seguito di diverse segnalazioni prevenute dalla sala operativa della Questura tramite il 112, l'esercizio è stato nuovamente sanzionato per la presenza di clienti e per la somministrazione in violazione delle norme anti-Covid. Parliamo ora di Udine-Gorizia-Fiere che guarda il futuro puntando sulla riconversione multicanale. Se ne è parlato stamattina in un incontro ospitato dalla Camera di Commercio a Udine. Il futuro sarà completamente diverso dal passato. Questo è il presupposto delle linee guida che Udine-Gorizia-Fiere ha elaborato per il futuro immediato alla luce di un 2020 disastroso per il settore e di un 2021 oltretanto complicato per l'impossibilità di pianificare, Isodalizia ha deciso di puntare sulla riconversione multicanale dimenticando le fiere nel senso più tradizionale del termine. Questo ente nel futuro avrà un po' meno mattoni per le fiere, avrà più digitale e avrà la possibilità di ospettare in questo meraviglioso campus, perché è bello il campus complessivo dei dieci padiglioni, anche altre attività complementari come il mondo della formazione. Devo dire che un pizzico di bravura l'abbiamo avuta perché siamo stati celeri nell'adottare le procedure e di renderci credibili, per cui noi abbiamo realizzato per diverse istituzioni concorsi dentro i nostri padiglioni, abbiamo realizzato incontri quando era possibile, sto parlando di estate o all'inizio dell'autunno, e continueremo. E con la sanità abbiamo iniziato questo percorso proprio per dare gli spazi per servizi che io definisco ancillari alla sanità. Quindi un'area così importante, anche sotto il profilo strategico, urbanistico, non può continuare a pensare di sopravvivere facendo qualche fiera in un contesto dove le fiere sono sempre più in difficoltà, ma deve attivare, come sta attivando, tutta una serie di percorsi multifunzionali, quindi la scuola, la formazione, in questo caso anche la sanità, ma ci sono gli eventi che possono essere rafforzati. Spostiamoci a Palmanova dove nella mattinata sono iniziati i lavori del sottopasso ferroviario di San Marco, un progetto, un intervento molto atteso dalla cittadinanza, atteso da anni, che prevede l'eliminazione del passaggio a livello e la realizzazione di una doppia rotatoria. Un investimento di oltre 3 milioni di euro e un iter lungo 20 anni sono iniziati questa mattina i lavori del sottopasso ferroviario di San Marco nell'incrocio tra l'imbocco della zona industriale di Palmanova e la strada regionale che collega la città stellata a Udine. La realizzazione dell'opera impiegherà circa due anni. Vuol dire per Palmanova e per il territorio vuol dire un'opera grandiosa che permette maggiore sicurezza, maggiore snellezza nel traffico e questo direi che è un risultato ottenuto dopo 20 anni dalla firma del primo protocollo d'intesa direi che con fatica abbiamo trovato i soldi durante il percorso, un percorso lungo ma adesso sicuramente questo è un beneficio per tutti che qua c'è una zona industriale, ci sono aziende che avere fermi mentre sono costi ma poi la gente e la sicurezza di quell'incrocio sicuramente aveva bisogno di un evento del genere che snellisce di fatto e velocizza quello che è i percorsi verso Udine, verso la città stellata e verso Bicinico e verso la zona industriale. Per superare il blocco verrà eliminato il passaggio a livello, realizzato un sottopassaggio e due rotatorie, una per ogni versante della linea ferroviaria. La prima condurrà a Palmanova, a Udine e all'imbocco del sottopasso ferroviario, la seconda gestirà i flussi verso la zona industriale e Bicinico. Un'opera del territorio, così la definita Graziano Pizzimenti, assessore regionale delle infrastrutture, presente questa mattina alla posa della prima pietra. Un progetto ambizioso, un'opera pubblica complessa con un'idea progettuale interessante e che risponde dando soluzioni alle problematiche di questo svincolo. Viario. Veniamo ora allo sport perché alla Dacia Arena è terminata con un pareggio, un 1-1 la partita tra Udinese e Atalanta. Subito in gol per Eira, pari di Muriel, ma poco prima ha negato un rigore ai bianconeri in servizio. In fondo va bene così perché contro l'Atalanta un pareggio non si può buttare via, eppure anche questa volta il sentimento dominante a fine gara è la rabbia sì, alla fine dei 90 minuti si resta con l'amore in bocca per una partita giocata finalmente in maniera attenta dai bianconeri puniti questa volta da un episodio quanto meno dubbio per usare un eufemismo e così Pereira viene raggiunto da Muriel e la gara finisce. 1-1 una gara che si sblocca subito ma subito per davvero perché dopo 26 secondi l'Udinese è già in vantaggio grazie all'azione personale di Pereira che è arrivato in area trafigge Gollini con l'esterno e porta in vantaggio le zebrette l'Atalanta colpita a freddo prova a reagire senza però riuscire a creare grandi occasioni da rete almeno fino al minuto 35 quando Musso mette il mantello e vola sul destro di Mele deviandolo in calcio d'angolo pochi minuti dopo ancora Musso è attento sulla tiro insidioso di Toloi poi si arriva all'episodio che ha condizionato l'intera gara Gollini in uscita fa sua la sfera ma incredibilmente gli sfugge e sul pallone si fionda il Latuku che viene steso dall'estremo difensore Atalantino incredibilmente però né in diretta né al VAR l'episodio viene considerato falloso e allora l'Atalanta ringrazia ed un minuto dopo trova il pareggio con Muriel che vince un rimpallo in maniera fortunata e sigla alla rete dell'1-1 e con questo punteggio si conclude il primo tempo nella ripresa il copione non cambia l'Atalanta prova a fare la partita inserendo anche i vari Ilicic Gosens e Zapata ma non riesce a creare occasioni incredibili per merito di un Udinese che finalmente gioca una partita quasi perfetta difensivamente parlando ci provano Miranciuk che calcia fuori e Romero di testa ma il risultato non cambia finisce 1-1 alla Dacia Arena un pareggio ottimo arrivato dopo giorni di tensione in caso Udinese un pareggio che per assurdo poteva anche diventare qualcosa in più ma un pareggio che i bianconeri devono tenersi stretto per ripartire dopo un periodo difficile ora è tempo di ricaricare le pile ma bisogna fare in fretta sabato arriva l'Inter e per la Supercoppa italiana primo trofeo della stagione nella serata si sono affrentate a Reggio Emilia la Juventus e Napoli la partita si è appena conclusa con la vittoria della Juventus per 2-0 veniamo ora le prime pagine a disposizione come sempre diamo un veloce sguardo assieme prima di salutarci iniziamo con Libero il titolo che vediamo assieme è questo Conte paga chi lo sostiene una poltrona per tutti al Premier servono altri 14 senatori per convincerli pensa di offrire incarichi nell'esecutivo i primi soldi dell'Unione Europea saranno usati per salvare dalla crisi la maggioranza e non gli italiani proseguiamo e andiamo su il giornale le parole sono queste già un Vietnam governo prigioniero Renzi subito all'attacco su virus e giustizia il Premier sale al colle ma i numeri non ci sono e poi ovviamente qui anche la foto del giuramento di Biden continuiamo però e andiamo velocemente anche su il foglio vediamo il titolo in evidenza in rosso le parole sono queste uno speciale Scilipoti chiamato Salvini e anche qui l'incapacità del leader della Lega di uscire dalla stagione dell'impresentabilità ha costituito per il governo un soccorso infinitamente più prezioso rispetto a quello dei responsabili da dove nasce l'impotenza dell'opposizione nella crisi più pazza che c'è questo il titolo che leggiamo assieme sul foglio abbiamo ancora a disposizione la verità Renzi suonato Conte bollito al Senato appena in 156 stanno con Giuseppi grazie a Voltagabbana e Senatoria Vita il Premier raccatta una maggioranza risicata però dallo scontro parlamentare esce Malconcio e forse sarà costretto a dimettersi di sicuro scrive la verità ad ora in poi basta pieni poteri e di PCM quanto al Fiorentino era partito per Rottamare ed è stato costretto all'astensione per non perdere il partito e così anche stavolta gli italiani è impedito di votare così sulla verità ma come sempre vi ricordo l'appuntamento con la nostra segna stampa di domattina a partire dalle 7 ovviamente per un approfondimento di tutte le principali notizie di carattere internazionale nazionale e ovviamente locale grazie per la vostra attenzione vi salutiamo ora con H.D.O.G. a cura di Guido Comirato buonanotte il 20 gennaio 1925 nasce a Udine Silvano Pravisano che è stato attaccante dell'Udinese dal 1943 sino al 1949 complessivamente Pravisano che è stato uno dei giocatori più tecnici tra gli udinesi ad indossare la maglia bianconera ha disputato 114 gare segnando 37 reti io aggiungo anche 5 reti per quanto concerne il torneo 1944 Girone Giuliano Alta Italia durante la guerra in cui ha anche segnato una rete era un attaccante dotato di tecnica raffinata avrebbe potuto diventare un campione ma non ha fatto i conti con la sfortuna quando era al Genoa quando era uno dei migliori giocatori della formazione Ligure è stato vittima due volte di un incidente al ginocchio la rottura del menisco che allora era una patologia seria e la prima volta si ruppe il menisco nella prima giornata del torneo 54-55 contro il Napoli giocò in quella disgraziata nata soltanto due partite poi l'anno dopo ancora la sfortuna è in agguato ancora la sfortuna lo colpisce nella gara contro il Milan scivola dopo una finta dell'ala sinistra Frignani e si procura un'altra lesione al menisco e deve stare ancora a lungo out poi nel 56-57 passa al Parma dove rimarrà per un'altra stagione Bravisano va ricordato per essere stato anche un bravo allenatore era presidente degli allenatori del Friuli era un insegnante di calcio ma anche un insegnante di vita ha allenato anche squadre dilettantistiche del Friuli e di Udine ad esempio la San Giorgina di Udine ha allenato anche per un breve periodo nel settore giovanile dell'Udinese e si è sempre fatto ben volere si è anche diplomato all'Isef e ha insegnato educazione fisica sino al pensionamento nelle scuole superiori di Udine di Udine